Buongiorno cari amici, ben ritrovati sull'orizzonte degli eventi. Oggi ritorna ancora una volta Mario Arturo Iannacone per parlarci di un luogo molto particolare, un luogo che pochi conoscono, ma che all'inizio del Novecento era uno dei luoghi più alla moda e soprattutto un luogo dove si metteva in pratica tutta una serie di principi che poi sarebbero diventati i principi cardine della New Age. Il luogo è Monteverità, sopra Ascona, nel canton Ticino. In questo luogo, nel 1900, arrivano Ida Hoffman e Henri Odenkirfen, personaggi che provengono da famiglie molto benestanti e fondano una cooperativa, un sanatorio, con l'intento di attirare persone che vogliono adottare uno stile di vita più vicino alla natura. Insomma, tutti quei principi che poi, 60 anni dopo, sarebbero diventati lo stile di vita degli hippies. Gli hippies non hanno inventato assolutamente nulla, quindi noi stasera, io ma soprattutto Mario Arturo Iannacone, vi raccontiamo la storia di Monteverità, l'ennesima rivoluzione culturale. A tra pochissimo, grazie! Buongiorno cari amici, ben ritrovati sullo orizzonte degli eventi. Diamo il benvenuto ancora una volta a Mario Arturo Iannacone, che ritorna per parlarci di un luogo, questo Monteverità, che fra breve spiegheremo che cos'è e dove si trova. Questo Monteverità è stato un, possiamo dirlo, una montagna sacra della rivoluzione culturale e quindi vogliamo raccontarvi la storia di questo luogo, sopra Ascona nel canton Ticino in Svizzera, dove nel 1900 arrivano due personaggi particolari che sono i fondatori di una cooperativa. Noi siamo abituati a considerare il movimento hippie, che è un fenomeno degli anni 60 del secolo scorso, come un'assoluta novità, come un fenomeno di rottura che ha rivoluzionato il modo di vivere, il modo di concepire i rapporti interpersonali, i rapporti con la natura, eccetera. Invece noi vi raccontiamo questa sera che in realtà gli hippie hanno avuto dei precedenti, sono arrivati forse per ultimi, perché poi dopo non c'è stato un altro fenomeno simile a quello. Sì, adesso c'è un ritorno all'ecologia, ma ha dei termini molto diversi. Questi fenomeni delle comunità cooperative, ce ne sono state anche in Italia famose per tanti motivi, hanno avuto degli illustri precedenti che però possiamo dire hanno lo stesso tipo di genesi, quindi non nascono come si dice dal basso, ma vengono calate dall'alto, perché le persone che fondano questi comuni, questi movimenti sono persone facoltose, sono persone pienamente inserite dentro un'elite, un'aristocrazia e è strano che improvvisamente tutti questi ribelli che non volevano più vivere nel mondo borghese, nel mondo capitalista, moderno, modernista, eccetera, trovano tutti questi fondi per creare queste istituzioni che hanno anche dei costi, perché come vedremo, ecco. Quindi diciamo che noi facciamo la storia dei bisnonni e degli hippie. Assolutamente. Se uno guarda le foto di quelli che frequentavano Monteverità, sono stranianti perché sembrano, sembra di vedere degli hippie portati indietro nel tempo con la macchina del tempo, usando le stesse barbe lunghe, le tuniche, eccetera. Quindi iniziamo con questa, come comincia questa avventura di Monteverità. A te Mario. Benissimo, intanto saluto e ringrazio per questo invito. Sì, parliamo di Monteverità, di Ascona, perché è uno dei luoghi della potenza, diciamo, uno dei luoghi sacri della nuova cultura che si stava proponendo in quel periodo, nel fin del siècle, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, un luogo nel quale sono stati sperimentati degli stili di vita che potremmo definire pre-hippie e che è diventato una sorta di luogo sacro, nel senso che viene ricordato con nostalgia già negli anni 40, negli anni 50, dagli hippie e che, come vedremo, ha riunito moltissimi personaggi importanti per la storia del Novecento, soprattutto per gli aspetti rivoluzionari della storia del Novecento, cioè la contestazione nei confronti di quello che loro chiamavano il patriarcato, il cristianesimo o la società precedente, borghese. Ecco, Monteverità è, come dicevi, sopra il Lago Maggiore, ad Ascona, ed è un luogo strano, diciamo strano nel senso che è legato al San Gottardo. San Gottardo è stato la porta, per secoli, fra il mondo germanico, tutta l'area germanica, e il Mediterraneo, l'Italia, perché affacciandosi al San Gottardo, passo del San Gottardo, prima, poi il traforo che è stato fatto alla fine dell'Ottocento, i tedeschi vedevano il Lago Maggiore, la pianura padana, e quindi il Mediterraneo, cioè l'area mediterranea. Infatti sappiamo che, se ti ricordi, qualche anno fa, quattro anni fa, fu aperto un nuovo traforo del San Gottardo, con una celebrazione impressionante. C'ho scritto un post sul mio blog. Ah, andrò a leggere, allora mi è sfuggito. È legato ad Ascona, è legato a Monteverità, perché scendendo da lì si arrivava proprio al Monte Monescia, dove nasce appunto questo Monteverità. Quindi è un luogo simbolico, no? Ecco, sia il San Gottardo che la collina che è sopra Ascona, che sin dall'Ottocento era un luogo nel quale arrivavano anarchici, personaggi che avevano avuto problemi nei vari paesi attorno alla Svizzera e che lì trovavano rifugio, Kropotkin, Bakunin e altri. Ecco, diciamo questo, che Monteverità, di cui adesso faremo una breve storia, si può dire che sia legato culturalmente ad altri esperimenti, ad altre esperienze, una che avviene proprio nello stesso luogo, che sono le conferenze di Eranos. Le conferenze di Eranos sono una serie di conferenze, un luogo, una sorta di fondazione, un pensatoio che esiste ancora oggi, che fu fondato poi fondamentalmente da Jung e da altri personaggi, nei quali si tentò o si elaborò una sorta di sintesi fra Oriente e Occidente, una sorta di continuazione, ma a livello quasi accademico, diciamo delle elaborazioni teosofiche. È legato anche a fiume, perché vedremo che ci sono dei personaggi che frequentano Monteverità e frequentano anche fiume, dove succedono cose simili a quelle di Monteverità, declinate in un altro modo, naturalmente, cioè Guerresco, mentre le persone che fondano Monteverità erano prevalentemente pacifiste. Ma anche il quartiere di Bloomsbury e i personaggi che sono legati a Bloomsbury, come Litton Stracci, come Virginia Woolf, tutti personaggi che lottano contro quella che loro chiamano la cultura patriarcale, i termini che usano sono sempre gli stessi, che sono antiborghesi, anche se molto spesso arrivano da famiglie molto facoltose, e che vogliono rompere con la morale precedente. Ecco, diciamo che possiamo iniziare il nostro discorso ricordando, rievocando un fenomeno che è quasi contemporaneo a quello di Monteverità, ma avviene un pochino prima, che è quello dei van der Vogel. Van der Vogel sono chiamati così gli uccelli migratori. Era un movimento di giovani tedeschi che si muovevano per i boschi, cantando e vivendo nella natura, quasi rifacendosi a una sorta di immaginario medioevo, un medioevo idealizzato. Questo è un movimento importantissimo, stato anche un po' dimenticato, del quale tutto sommato i protagonisti che fonderanno Monteverità in qualche modo sono legati, al quale sono legati. Proprio perché come questi giovani, questi nomadi menestrelli che si spostavano nelle foreste della Germania, soprattutto una foresta nera, ma arrivavano anche fino alle soglie dell'Italia, come loro questi si muovevano, appunto, si cercavano dei luoghi nei quali rigenerarsi, dalla vita industriale e dalla vita borghese e dalla vita cittadina. Mostro solo un libro, l'unico tradotto in italiano, poi ce ne sono di tedeschi, insomma, che non mostro, magari interessano meno, è l'unico che è stato tradotto, Ivan der Vogel. Questi in realtà venivano un po' dal basso, questo è un movimento che nasce dal romanticismo, però ha molti elementi che li accomunano con i signori di Monteverità che adesso conosceremo. Poi gli uccelli migratori, si chiamavano questi, verranno un po' anche dimenticati perché alcuni di questi gruppi si legheranno alle origini, non alle origini, ma comunque ai corpi paramilitari nazisti, ma non tutti assolutamente, quindi questo in realtà per lo più fu un movimento innocuo. Veniamo invece a Monteverità. Quali sono gli elementi comuni? Ma certamente il ritorno alla natura, la Naturphilosophie, che è la filosofia della natura tedesca che nasce nella seconda metà dell'Ottocento. Diciamo questo, ecco, subito per vedere l'origine di Monteverità. Questo luogo viene subito considerato interessante da elementi che appartengono alla teosofia. Teosofia sono dei teosofi svizzeri, in particolare uno che si chiama Pioda. Questo signore era un facoltoso signore del luogo, viveva lì vicino, aveva una casa anche ad Ascona, compra la collina, che poi diventerà Monteverità, con l'intenzione di fondarci un convento laico. Lui lo definiva così. Questo faceva parte del partito radicale locale, era uno spiritista, era un naturista, pubblicava delle riviste su questi argomenti, ed era amico di Franz Hartmann, che è un famoso esoterista, massone, e che è uno dei tre personaggi che sono all'origine dell'Ordo Templis Orientis, quel gruppo, diciamo, occultista, che poi verrà controllato da Lester Crowley. Quindi vediamo subito dall'inizio che le persone che girano attorno all'interesse per questo luogo, che considerano un luogo magico, in un certo senso, sono... Anche con delle particolari vibrazioni dovute al terreno, letto, le rocce... È un luogo bellissimo, fra l'altro, è stupendo, molto, molto bello. Sì, molto bello. È capitato di visitarlo, così con interesse, così da studioso, ma insomma ho apprezzato anche il panorama. Do solo un'aggiunta, un altro nome, Von Eden, l'ideatore del termine sogno lucido. Interessante. Che è tutto un capitolo che andrebbe sviscerato, molto interessante, che però rientra sempre nel discorso degli stati alterati di coscienza e quindi potrebbe essere anche una via di meditazione. C'è per esempio il regista americano Lynch, che sappiamo avere degli interessi molto particolari per le cose strane, e lui è un fautore appunto del sogno lucido come pratica, cosa molto pericolosa che da psicologa sconsiglio vivamente. Bene, quindi parlavamo di Pioda. Pioda, lui decide che questo convento laico debba essere eretto da Hartman, appunto che è un personaggio importante questo qui, ed è una certa Wachtmeister, un nome così, che era un'amica della Blavatsky. Allora, torniamo un po' alla teosofia, non ce l'abbiamo con la teosofia, ma la troviamo continuamente nelle nostre conversazioni. Poi questo vuole fondare questo convento laico, ma insomma il progetto non va a buon fine. E nel 1899, un po' misteriosamente, compaiono in quel luogo quattro o cinque personaggi, sono due sorelle, le sorelle Hoffman, una la più importante, diciamo, tra queste, perché ha scritto molti testi, è Ida Hoffman, due fratelli, Karl Graser, il famoso Gusto Graser, che è quel personaggio con la barba lunga, i capelli lunghi, che verrà fotografato per decenni, e un facoltoso giovane che si chiama Oeden Kofen, il quale era malato, aveva la sifilide, se non sbaglio, e voleva curarsi con i nuovi metodi della, diciamo, della naturfilosofia o delle lambital, quindi bagni di sole e acqua camminate nei boschi e così via. Quindi questi cinque personaggi trovano che la collina di Monescia sia adatta a quello che loro vogliono fondare, vogliono fondare una sorta di sanatorio basato su metodi nuovi, naturista e trovano i soldi, trovano i soldi per comprare l'intera collina. Probabilmente li ha cacciati, per usare un termine, l'industriale, il papà di Enri. Sì, 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 esatto. Lui era figlio di questo ricco industriale olandese e quindi molto probabilmente i soldi, i soldi di papà, insomma. I soldi di papà. Un classico. I soldi di papà. Quello che non è chiaro neanche nei test, insomma, che hanno un po' ricostruito la storia di Monteverità è come questi fanno sapere che lì Pioda voleva fare questo convento laico. Sono gli ambienti teosofici che probabilmente avvisano questi ragazzi, erano piuttosto giovani, solo uno era su una trentina, che lì c'è un luogo adatto a quello che vogliono fare, che è su una linea energetica giusta ed è vicino al San Gottardo, quindi sulla porta verso il Mediterraneo, una perfetta unione fra mondo germanico e mondo mediterraneo. Uno di questi, Karl Graser, aveva fondato un gruppo anarchico che si chiamava Senza Costrizioni, quindi un gruppo che chiamava la liberazione totale, morale, soprattutto, nei comportamenti e così via. Ecco, questi si stabiliscono lì e costruiscono, come è anticipato, una prima, una casa, una seconda casa, poi daranno a queste case, a questi edifici dei nomi ispirati al buddismo, Casa Anatta, per esempio, è famosa, che è stata anche studiata da storici dell'architettura, perché è considerata comunque una casa costruita secondo dei principi magici molto adatti per star bene, per recuperare la salute. Quindi, loro usano poi diciamo lo stile Liberty, ecco, per costruire queste case. Ne fanno cinque, più o meno grandi, una molto grande, le altre meno grandi e cominciano a vivere in questo luogo e cominciano a praticare il vegetarianismo, quindi mangiano vegetariano, la cucina che poi verrà chiamata macrobiotica, si vestono con delle tuniche praticamente senza bottoni, si fanno crescere i capelli, anche se poi si vede che c'è una sorta di frattura in questo gruppo, perché due di loro sono più per la vita, Graser soprattutto e la sua compagna che poi si ammalerà e due che invece, Odenkoven e Ida Hoffman, che sono più imprenditori, quindi cominciano a costruire un sanatorio, cominciano a costruire, loro lo chiamano sanatorio, ma insomma è un luogo dove si va a mangiare, dove si balla, dove si cerca di recuperare la salute. Erano tutte pratiche molto alla moda all'epoca, i bagni di sole, idroterapia, mangiano solo frutti e il luogo comincia anche ad attirare anarchici, ideologi e persone che sono attirate verso nuovi stili di vita o di alimentazione e così via. La fama di Monteverità diventa subito una fama piuttosto diffusa, perché già nel 1903-1904 vengono a visitare questo luogo che è cresciuto, che ha già dei clienti. Tra l'altro loro sono molto bravi, soprattutto la Hoffman e Odenkofen sono molto bravi a fare pubblicità, perché lei comincia a scrivere dei libretti che vengono diffusi in tutta l'area germanica, alcuni vengono anche tradotti, quindi si fanno conoscere e questo luogo diventa presto famoso. Per esempio nel 1903 viene visitato da un famoso all'epoca anarchico di Genova, se non sbaglio, che si chiamava Arnaldi, il quale arriva farmacista e apprezza insomma quello che vede, scrive un libretto, non mi ricordo il nome di questo libretto, forse si chiamava La protesta umana, 1903-1904, che ha una buona diffusione in California, quindi cominciamo a trovare i primi collegamenti, e altri personaggi che iniziano a gravitare attorno a Monteverità, adesso troveremo anche personaggi famosissimi come Herman S che arriveranno dopo il 1905, prima ci sono per esempio due anarchici, anche loro, due amici che erano peraltro omosessuali, quindi che sono Musham e Noll, questi due personaggi, quali a loro volta attraggono lì un pezzo grosso, il primo pezzo grosso che arriva lì è Otto Gross, Otto Gross è un psicanalista a suo tempo molto famoso che era stato uno degli allievi prediletti di Jung, anzi era stato non solo un allievo prediletto di Jung, era stato un concorrente di Jung, si riteneva al tempo che la sua bravura come teorico della psicanalisi fosse a livello di quella di Jung, solo che Otto Gross era molto più estremista di Jung, per esempio lui aveva inventato a un certo punto una sorta di terapia che lui chiamava il culto di Afrodite secondo la quale si poteva guarire da certe malattie o da disturbi praticando quello che veniva chiamato l'eterismo, cos'era l'eterismo fondamentalmente era si andava a letto insieme insomma e quindi lui ha tutta una serie di clienti che donne e non solo donne, donne e uomini che hanno questa sono sottoposti a questa cura che è il contrario proprio la cosa più vietata che ci sia in psicanalisi proprio qualsiasi tipo di rapporto fisico tra l'analista e il paziente certo infatti verrà buttato fuori dalle società della psicanalisi del tempo ma lui riteneva che proprio la bisessualità proprio fosse una sorta di solvente rivoluzionario era quello che poteva far deflagrare la società borghese cristiana eccetera ed è una posizione questa che non è solo sua perché per esempio la troviamo pari pari negli scritti di Litton Stracci che è l'ideologo direi l'ideologo più importante di Bloomsbury del gruppo di Bloomsbury un gruppo di inglesi molto altolocati che non sono hippie ma fondamentalmente credono e praticano cose simili ma nei loro salotti molto molto altolocati ecco quindi cominciano a gravare questi personaggi tra l'altro sul personaggio di Otto Gross diremo anche qualcos'altro perché lui aveva dei collegamenti anche di amicizia con molti personaggi importanti non solo con Jung con quale a un certo punto litiga anche tra l'altro Otto Gross farà anche una brutta fine perché finirà in galera insomma si ammalerà ovviamente insomma faceva una vita anche droghe una vita spericolata molto spericolata su di lui ci sono pressoché solo oggi delle biografie apologetiche però c'è un libro molto interessante che consiglierò che si chiama Jung il profetariano di Noll che fu pubblicato dalla Mondadori che ce lo presenta in una luce credo criticamente più interessante e con Otto Gross noi arriviamo per esempio alle sorelle von Richthofen due sorelle rivoluzionarie ma nobili nobilissime che facevano parte dell'aristocrazia tedesca le quali diventeranno una la moglie di Lawrence David H. Lawrence a sua volta possiamo definire il niche inglese questo Max Weber Aldous Huxley e altri quindi ci troviamo un po' nel centro della cultura rivoluzionaria antiborghese degli inizi del Novecento Otto Gross ama molto Monteverità ci va diverse volte peraltro ci sono almeno due o tre suicidi tra le sue pazienti e amanti due delle quali sono legate a Monteverità che sono proprio questa lotte che arriva col gruppo dei primi cinque fondatori e poi un'altra Sophie Benz insomma che muore suicida perché appunto viene sottoposta a queste pratiche dove anche la droga era contemplata a un certo punto attorno al 1905 e 1906 cominciano ad arrivare quelli che Huxley chiamava i Bright and Best la gente brillante la gente migliore come per esempio Hermanès Hermanès arriva a Monteverità e dice di trovare lì un po' una sorta di rivelazione sul ritorno alla natura perché anche lui aveva problemi soprattutto di nevrosi Hermanès ha avuto insomma per tutta la vita dei problemi di vario genere e riteneva lì di averli superati almeno per il periodo in cui era rimasto ci arriva molte volte diventa ludista per esempio e scrive anche un libretto che si chiama Monteverità che però è un libretto molto così palla della sua vita e dell'importanza che per lui ha avuto il ritorno alla natura di Monteverità ma appunto ci torna molte volte e siccome lui diventa un personaggio importantissimo nel giro di pochi anni contribuisce alla fama di Monteverità ecco la Hoffman scrive tutta una serie di opuscoli in tedesco che vengono diffusi loro vanno in pellegrinaggio per esempio a Bayreuth dove ci sono i festival wagneriani conoscono Annie Besant cioè la seconda rettrice della società teosofica cioè restano in collegamento con il bel mondo quindi Monteverità diventa un luogo di energia come dicevano loro un altro luogo da cui provengono poi alcuni monteveritiani è Schwabing Schwabing certo Monaco ecco Monaco è una fucina di cose che poi si coaguleranno vicino a delle birrerie insomma accadranno delle cose dove chi agisce in queste birrerie si è alimentato di libri riviste di personaggi che hanno gravitato attorno a quel mondo di Monteverità tipo Guido von Liszt Lanz von Liebensfeld certo che sono fondatori di movimenti neotemplari arianofili infatti ecco è interessante magari poi una cosina diciamo come gli stessi miti stesse idee vengono declinate come abbiamo già visto in altri casi in alcune altre nostre conversazioni a sinistra o a destra per esempio un'idea importante è quella del matriarcato di Bakhoffen Bakhoffen è quel giurista che nel 1861 scrive il matriarcato questo libro molto influente nel quale sostiene che all'origine della civiltà c'è un matriarcato c'è stato un matriarcato una dea madre ma soprattutto un matriarcato che lui pensa di ritrovare nei miti nelle leggende e che all'origine non ci fosse il matrimonio e si praticasse quello che lui chiamava l'eterismo cioè fondamentalmente le orge ecco questa questa idea dell'eterismo è quella che troviamo in Otto Gross cioè Otto Gross si rifà proprio a Bakhoffen come Nietzsche è un lettore di Bakhoffen Evola è un lettore di Bakhoffen vari anarchici sono lettori di Bakhoffen quindi a destra a sinistra troviamo arianofili anche Robert Graves che è quello che ha scritto la dea bianca quel libro anche questo molto influente che sosteneva un'idea simile una dea mediterranea originaria che contemplava questo tipo di pratica la lotta è appunto contro il patriarcato fondamentalmente e il cristianesimo perché alla fine sempre lì si gira inutile tornando un attimo a Monteverità molte cose sto lasciando fuori naturalmente però cerchiamo un pochino di semplificare la storia vediamo che questo luogo diventa sempre più importante diventa sempre più influente e a un certo punto attira anche artisti importanti oltre ad Hermanesse oltre ad Axley oltre ad altri che magari fanno delle visite alcuni fanno delle visite veloci altri soggiornano importante è la visita di Mary Wigman e di Rudolf von Laban che sono i creatori della danza moderna proprio della danza moderna la danza moderna in un certo senso quella discendenza tedesca nasce a Monteverità perché questi arrivano lì fanno dei seminari insomma dei corsi per diversi anni e elaborano delle delle danze una molto 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 importante perché è stata poi rappresentata in tutto il mondo non a caso si chiama la danza delle streghe c'è proprio un tra l'altro ci sono delle immagini delle immagini anche cinematografiche si vede abbastanza impressionante perché è proprio una sorta di sabba fondamentalmente che viene rappresentato anche di notte attorno a Monteverità ricorda anche un po' le mena di insomma riti dionisiaci di vario di vario tipo come no infatti il dionisismo non ne abbiamo parlato ma questi erano praticati ne parlava anche Bakofen no? Bakofen diceva c'è la società apollinea e c'è la società dionisiaca cioè arriva da lì questa questa divisione e questi sono dionisiaci e lo dicono arrivano molte altre molte altre persone molti danzatori a un certo punto appunto qui creano questo concetto della danza libera non codificata in realtà codificata in un altro modo secondo dei concetti anche magici c'è scusa c'è ancora lì a Monteverità ho visto in un filmato una struttura che è un icosaedro sì dove von Laban diceva che rappresentava tutti i possibili movimenti di danza e c'è ancora questa struttura credo che sia metallica sì e anche questa è una forma di rivoluzione è una forma di rivoluzione perché questa danza poi richiederà un altro tipo di musica richiederà altri tipi di testi di rappresentazioni più legati all'istinto alla ferocia magari o alla liberazione quindi è anche questa una forma di rivoluzione e sì Isadora Duncan sarà stata ovviamente Isadora Duncan è una di quelle che va a Monteverità anche gli Enin se è per questo Trotsky Trotsky no ma li troviamo quasi tutti Bakunin Bakunin certo molte di queste danze poi ecco vengono fatte in completa nudità e questo crea naturalmente scandalo fra i insomma gli abitanti del posto tanto è vero che un termine che io ho sempre sentito dire in Brianza balabiot non sapevo che cosa un tempo che cosa significasse pare proprio che derivi da lì balla balla nudo sì sì ma ho letto sempre in questo libro di Stefan Bollman che parla appunto di Monteverità che si era creato anche un business di guardoni c'è gente che affittava si aveva dei luoghi delle case vicino da dove si potesse sbirciare dei giardini di Monteverità proprio uno pagava il biglietto andava a sbirciare le signore ignude che allora non era un non era così facile insomma no certo no certo e quindi si era creato un po' di un po' di di business un po' di indotto come si direbbe in termini moderni questa storia poi ecco anche un altro capitolo che è interessante per chi studia questi fenomeni che è l'arrivo di Theodore Royce nel 1914 durante appena scoppia la prima guerra mondiale ma lì non scoppia e Theodore Royce è uno di quei come Hartman è uno di quei personaggi che sono all'origine di questo famoso O.T.O ordo del templo templo orientis ma non si limita ad andare a Monteverità fonda una loggia a Monteverità fonda proprio una loggia stabile lì conquista alle sue idee che sono idee di persone quelle dell'O.T.O insomma dell'Odo templis orientis dei rituali della magia sessuale che lui pubblica proprio in quegli anni inizia da quello che sembra sia Ida Hoffman che Oidenkofen che diventano membri dell'O.T.O quindi ritroviamo a Monteverità una costante che ritroveremo anche che non so Ida Heshbury il quartiere di San Francisco dove non c'è questo personaggio ma ci sono dei continuatori o la California di Parsons ecco sono gli stessi arrivano e fondano la Solar Lodge non solo questa loggia lì ha un'attività abbastanza importante per diversi anni e fanno delle rappresentazioni come le faceva anche Crowley che faceva le rappresentazioni degli Eleusi nel 1918 fanno una grande rappresentazione aiutati da Laban che è la danza del tramonto la danza della notte la danza dell'alba durante tutta un'intera notte fanno un uno spettacolo che è soprattutto un rituale che è soprattutto un rituale un rituale di trasformazione della società quindi non è solo arte nella loro intenzione ma è anche proprio un rituale ci sono tamburi ci sono torce declamazioni viene scritto un testo Laban continuerà la sua attività sotto il nazismo cioè per un certo numero di anni a un certo punto verrà cacciato ma per un certo numero di anni lui diventa una figura importantissima di spicco della danza moderna nella cultura nazista non sappiamo se li fosse un nazista dicono di no ovviamente quelli che scrivono le biografie su di lui però anche qui notiamo queste continuità fra una cultura rivoluzionare di sinistra e una cultura rivoluzionare diciamo nazista ecco sono delle continuità in realtà molto più profonde di quello che si potrebbe pensare basta basta vedere i film della Leni Riefenstahl anche Olimpia per esempio che è il film che celebra le Olimpiadi di Berlino del 36 se non sbaglio si 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 capisce insomma da dove da dove può essere scaturito questo questo gusto per la perfezione il corpo la sanità del corpo e poi ha avuto come conseguenza l'eliminazione degli imperfetti degli unfit eh sì come sempre magari si parte con delle buone intenzioni poi si finisce dove non si non si sarebbe dovuto finire sì quindi noi notiamo che il punto centrale è la rivoluzione rivoltarsi contro l'ordine contro la lo status quo contro il mondo di di quell'epoca non importa da che parte rivoltarsi rivoltarsi da destra come rivoltarsi da da sinistra l'importante è convergere tutti contro questo questo centro per poi sì finire a perdere il centro soprattutto a perdere il proprio centro il proprio centro la destra diciamo con venature esoteriche occultiste quel tipo di destra lì soprattutto ecco poi interessante anche vedere come questi personaggi che si incontrano a Monteverità cioè Laban Royce continuano la loro attività a Zurigo fondano una loggia importante che questa me la ricordo Libertas Fraternitas e lì continuano continuano ad agire entrano in contatto con i dadaisti con Tristan Zara quindi con Otto Gross ovviamente con Hugo Ball che è il biografo di Herman S insomma è un mondo tutto collegato il solvente rivoluzionario come dicono loro è quasi sempre è sempre anzi direi è proprio il sesso lo dicono proprio quindi la liberazione sessuale che peraltro poi fondamentalmente quello che loro dicono e praticano in un certo senso si è sempre fatto la differenza in questi personaggi è che loro la ideologizzano cioè non la nascondono e diventa proprio ideologia diventa un'arma rivoluzionaria mentre insomma è passato magari ecco le trasgressioni c'erano ma non diventavano questa cosa qui questo effettivamente diventa un solvente molto potente Laban diventa il direttore del corpo di ballo del terzo Reich e poi a un certo punto come dicevo viene cacciato in quanto accusato di essere omosessuale eccetera quando c'è una sorta di epurazione all'interno del partito nazionalsocialista che però nasce con le SA con certe tendenze c'è un libro che si chiama Pink Svastica che la svastica rosa che diciamo piega un po' di queste cose e anche qui dopo c'è stata la reazione di perseguitare gli omosessuali tra le tante categorie che erano colpite dalla persecuzione il triangolo rosa era appunto quello destinato agli omosessuali sì in effetti questa dialettica diciamo fra liberazione e reazione ma reazione all'interno però della stessa logica rivoluzionaria avviene in Russia tra il primo periodo e il periodo staliniano avviene in Spagna nel 1935 e 1936 quando quando si scatenano appunto gli anarchici gli anarcho insurrezionalisti e che vengono sterminati dai comunisti e succede anche con i nazisti perché all'inizio c'è questo movimento diciamo delle fratrie guerriere con tendenza omosessuale dell'SA che vengono sterminati dall'SS sì sì è una tendenza costante anche in Messico succede adesso la tendenza rivoluzionaria è diventata sistema ecco troviamo Trotsky troviamo Eric Marie Remarque troviamo Kaiserling che era un altro personaggio influentissimo all'epoca Ilke Paul Tillich che è a Monteverità va diverse volte che è un influentissimo teologo teologo per modo di dire comunque teologo che fa parte di quella diaspora che dalla Germania va negli Stati Uniti Max Weber ma veramente tantissimi ci va anche Aleister Crowley naturalmente e altri quindi Monteverità diventa veramente un mito per un po' di anni poi verrà anche dimenticato ma semplicemente perché verrà superato ecco qualcosa di simile a quello che abbiamo detto cioè a un certo punto dopo un po' di anni agli inizi degli anni venti quando il sanatorio di Monteverità e le sue esperienze sono state ormai codificate sono diventate una impresa turistica questo spirito rivoluzionario comunque innovatore nel campo dello spirito viene preso dalle conferenze di Eranos che sono fondate da una nobile che si chiamava Fröben Kaptein un famoso personaggio su molto ricco che compara una donna molto ricca che compara una parte della collina vicino alla collina Monesha crea più di una casa ma sono delle ville molto belle e lì inizia a organizzare delle conferenze invitando gli intellettuali gli studiosi delle religioni gli studiosi di spiritualità gli oggi qualche teologo molti buddisti psicanalisti studiosi di alchimia ma a livello diciamo accademico ecco e quindi questa esperienza di Monteverità viene canalizzata in un certo senso da queste conferenze di Eranos che dove erano decenni e decenni perché la fondazione esiste ancora vengono rette per molti anni da Jung si fa fotografare molto spesso e vengono tutte pubblicate quindi c'è tutte pubblicate molte sono anche molto interessanti si studia Lao Tse si studia il buddismo si studia uno dei primi è Marty Buber un studiosi ebreo molto importante sulla storia del misticismo che studia Lao Tse la spiritualità cinese la prima serie delle conferenze di Eranos si conclude nell'88 poi c'è una rifondazione e adesso sono ancora lì ed Eranos da questo punto di vista è importante perché fa un po' il lavoro che aveva fatto la teosofia alla fine dell'Ottocento con 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 MED quando erano stati tradotti molti testi Alessandrini molti testi dell'alchimia ermete trismegisto evangeli gnostici ed erano stati studiati questi rifanno un po' lo stesso percorso però con più persone e facendo degli studi critici ecco questa un pochino è l'esperienza di Monteverità in sé che cosa è successo a Monteverità non è successo moltissimo in effetti beh a parte la nascita della danza moderna e altre cose ma l'importanza di questi luoghi è che diventano dei simboli diventano proprio dei simboli Monteverità sarà noto nel movimento hippie infatti c'è questo collegamento fra queste esperienze e il movimento hippie peraltro ci sono anche alcuni personaggi come Jünger che in un certo senso fanno da trade union fra lo spirito di Monteverità e anche se lui era un aristocratico fanno un po' da trade union perché lui poi verrà accolto dagli hippie negli anni 60 come esponente di quella generazione che agli inizi del 900 durante la prima guerra mondiale soprattutto aveva tentato la rivoluzione antiborghese anche se quindi gli hippie erano coscienti che avevano avuto dei predecessori sono diventati coscienti a un certo poi adesso non so gli hippie che erano sempre sotto l'SD quando erano sovri sì ci sono per esempio Allen Ginsberg era molto cosciente che non era proprio gli hippie era un beat insomma la generazione precedente ma lui era molto cosciente di questa cosa e altri lo erano ci sono degli episodi interessanti su questo tipo di collegamenti i nonni degli hippie i veri nonni probabilmente sono proprio i van der Vogel però anche questi qui insomma con diverse coloriture hanno fatto cose simili ecco però dicevamo prima si osserva che ci sono delle esperienze simili in un certo senso nel senso che l'ispirazione è sempre quella è sempre la stessa ma che hanno degli esiti che sembrano del tutto diversi e sorprendenti perché per esempio si è più volte accostato l'esperienza dannunziana di fiume a movimenti tipo quello che vediamo emergere a Monteverità perché perché fiume è stato tante cose ma è stata soprattutto un'esperienza sociale rivoluzionaria io trovo anche delle somiglianze fra fiume e la spagna del 35 e 36 anche se i fiumani non erano assolutamente anarchici anzi tuttavia si erano anche anarchici però erano anarchici guerrieri una cosa un po' diversa non pacifisti e qui troviamo personaggi che potremmo collocare anche a Monteverità tranne che erano guerrieri quindi c'è l'uso di droghe che non abbiamo parlato molto ma Monteverità ovviamente c'è una sperimentazione di droghe molto importante droghe di che tipo si beh soprattutto hashish poi ecco non c'è stato rivelato ma allora era soprattutto questo oppio hashish queste cose che era disponibile anche la mescalina la sì la mescalina era disponibile sin dalla fine dell'ottocento quindi certo poi con la presenza di Hartman e di questa gente loro conoscevano bene gli usi avevano tutta la farmacia appresso sì 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 e quindi tra il 19 e il 20 durante l'impresa fiumana soprattutto in una fase di questa si presentano dei personaggi si presentano sono protagonisti dei personaggi che sono che teorizzano il ribellismo la trasgressione la trasgressione sessuale anche omosessuale o bisessuale l'uso di droghe gli atteggiamenti originali che si fanno fotografare in strane posti trovano le foto e sono Henry Furst Giovanni Comisso che è diventato uno scrittore importante dopo era un fiumano Guido Keller che faceva parte di una famiglia importante che è stata anche quella che ha finanziato il crematorio del cimitero monumentale di Milano che è un luogo impressionante se uno va a visitarlo perché è pieno di simboli arcani egizi veramente incredibile come luogo Guido Keller per esempio è quello che crea il gruppo dei pretoriani di Danunzio chiamata la disperata quelli che erano venivano scelti perché erano bellissimi venivano scelti perché erano fierissimi perché erano dei rivoluzionari murali da tutti i punti di vista però erano anche dei guerrieri che erano molto coraggiosi in grado di fare tante cose assolutamente spericolate ecco tra l'altro è stato testimoniato è testimoniato in vari libri che alcuni personaggi che bazzicavano insomma che frequentavano fiume erano anche diciamo pedofili o pederasti insomma questo non si capisce ma quello che interessava Danunzio era la festa la festa diceva quello che è proprio un crogiolo poi per carità l'esperienza fiumana aveva anche questo aspetto di rivendicazione di un territorio che era stato italiano e che era stato strappato ingiustamente quindi comunque era gente anche coraggiosa Danunzio sicuramente ma c'era questo aspetto di sperimentazione sociale nella trasgressione comportamenti disinibiti si beveva che è tipico poi si dice anche delle bande giovanili guerriere almeno perlomeno loro Danunzio faceva questo giustificava in questo modo diceva le bande pebane per esempio greche antiche avevano questo tipo di comportamenti proprio perché dovevano con questi solventi morali dovevano vincere la paura della morte e qui lui conia il famoso canto il grido di guerra eia eia la la che poi finirà nel fascismo esatto esatto anche questi verranno poi normalizzati perché a un certo punto quando rientrano nel fascismo tentano di portare questa questa morale diciamo che è quella del fascismo originario il fascismo nasce come socialismo poi come socialismo rivoluzionario quindi ci sta perfettamente che ci siano questi comportamenti ma poi col codice rocco nel 27 vengono normalizzati quindi per esempio l'omosessualità non viene più ammessa e viene anzi punita esattamente come in Russia esattamente come nel nazismo eccetera però ecco interessante vedere come ci siano questi aspetti comuni anche fiume diventa un luogo mitico ma siccome è legato al fascismo viene anche per molti anni maledetto mentre Monteverità no Bloomsbury no così gli altri luoghi come Esalen ecco Esalen è un altro luogo interessantissimo che ha vinto poi in realtà diventato influentissimo e che è all'origine di molta parte della controcultura della rivoluzione culturale americana quindi ci sono dei luoghi dove si accendono dei fuochi e fra l'altro sembra anche che tutte queste avanguardie in realtà sembrano più la riemersione di qualcosa di arcaico sì 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 certo ma primitivo sembrano riemergere e quindi avanguardie de che si direbbe sì sì con la psicanalisi si aprono le porte dell'inconscio da questo inconscio collettivo culturale possono riemergere anche dei fantasmi del passato ma infatti questi signori di Monteverità chiamiamola così controcultura è un termine che poi non è diciamo tecnico questo ma oggi viene anche accettato presenta sempre questi aspetti lo so abbiamo parlato di Otto Gross no ma quindi l'eterismo il ritorno alla grande madre Bacoffen e queste cose ma premiamo anche Lawrence D.H. Lawrence no l'autore dell'amante di Lady Chatterley questo in realtà più che come scrittore si propone come filosofo molto legato a Nietzsche lettore di Bacoffen anche lui collocato a volte a destra a volte a sinistra non ha senso questa cosa però appunto c'è questa collocazione strana un po' qui un po' là che propugnava nei suoi testi per esempio in Apocalisse e nel Serpente Piumato una religione del futuro mutuata sugli antichi misteri nei quali Gesù compariva come un iniziato diciamo un profeta fra gli altri lui si considerava comunque un uomo di sinistra e nei suoi ultimi testi addirittura prevede o vorrebbe vedere il ritorno della religione azzeca infatti il Serpente Piumato è un testo abbastanza impressionante perché fondamentalmente è la storia di due persone una europea e un messicano che si che hanno una relazione ma che si scopre alla fine lui essere una sorta di reincarnazione o di è posseduto insomma dal Dio Piumato dal Serpente Piumato e i due formano una sorta di androgino infatti il tema dell'androginato del gender non alchemico ma proprio della fluidità dei generi in Lawrence è molto presente incredibile ma noi queste cose le troviamo in questi personaggi oppure Robert Graves Robert Graves inglese autore di un libro ciò qui poi magari facciamo vedere ma comunque molto famoso che è La Dea Bianca geniale a suo modo propugnava questo ritorno ad una religiosità antica dove si doveva adorare una grande madre la stessa grande madre che sarebbe stata presente nei primordi della storia europea e non solo europea si definiva filosemita e anti-ariano quindi di Bafkofen per esempio Evola aveva preso la parte filo-ariana lui prendeva la parte filosemita ma sono tutte e due lettori di Bafkofen e questa pratica dell'eterismo stesso termine usato da Otto Gross o da Lagarde o da Dietrich tutti questi personaggi che poi confluiranno questi confluiscono nel nazismo o nel pre-nazismo sono gli stessi termini l'alfabeto la terminologia che usano questi personaggi è la medesima Robert Graves vive per la gran parte della sua vita o per una parte importante della sua vita a Mallorca che diventa una colonia inglese dionisiaca un po' tutte le Baleari molto importante tanto è vero che oggi non a caso insomma Ibiza continua quella storia lì Formentera Formentera fu molto in voga negli anni 60 molti molti ragazzi inglesi della Swing in London andavano a Formentera ma non a caso perché lì c'era una tradizione diciamo così di eterismo che Robert Graves racconta nei suoi diari e non a caso lì si scateneranno i franchisti perché sapevano che quello era un focolaio diciamo di c'è una lotta feroce che viene raccontata da Bernanos e poi alla fine questi movimenti rivoluzionari queste avanguardie sono state dimenticate perché anch'io confesso che fin tanto che non mi hai parlato tu di Monteverità non lo conoscevo sono state dimenticate perché adesso siamo è tutto un enorme Monteverità quindi è come è il discorso che facevamo sulla New Age che non la vediamo più perché ci stiamo dentro anzi si è perso però la parte nella parte intellettuale c'è stato una decadenza proprio della qualità del discorso come si dire si sarebbe detto una volta la parte intellettuale non esiste quasi più è tutta una melma dove sguazzano personaggi che non hanno non hanno avessero lo spessore intellettuale di quella gente lì ecco perché diciamo abbiamo parlato di Max Weber di Herman S di quindi erano personaggi che comunque Jung qualcosa avevano da dire oggi certo oggi siamo appunto immersi in una così in una palude dove è tutta avanguardia è tutto anzi è tutta trasgressione fino a se stessa sì perché dovevano distruggere il Logos usiamo questi termini per esempio Robert Graves David Herbert Lawrence dovevano distruggere il Logos ma dovevano usare il Logos per distruggere il Logos per cui i romanzi di questi personaggi sono dei romanzi a volte notevoli la Dea Bianca è un testo notevole letto anche oggi ma poi una volta che il Logos è stato distrutto nei decenni successivi e qui una responsabilità certo importante è proprio quella del New Age che viene dopo nasce nel 62 c'è proprio la data di nascita comunque una volta che appunto questo processo di dissoluzione rivoluzionaria è andato avanti certo è rimasto poco questo è un grosso problema questo è un enorme problema veramente grande sì bene caro Mario hai fatto un bel racconto di queste di queste realtà molto importanti perché hanno segnato la strada il percorso verso la nostra realtà attuale e hanno fatto appunto da apripista alla grande rivoluzione culturale che è stata quella del Novecento do qualche libro di sì certo speriamo appunto che siamo come sempre aperti ai commenti ai suggerimenti alle domande eventuali di chi ci ha ascoltato e sì se vuoi consigliare qualche qualche libro qualche libro per approfondire questi questi temi ecco uno l'hai citato tu è un testo molto apologetico su Monteverità si chiama Monteverità di Stefan Bollman è la traduzione di un testo tedesco questo di Kai Nortisch che si chiama appunto Monteverità scone il genio del luogo di Casa Grande editore che è un editore che è abbastanza specializzato su questo genere di argomenti per quanto riguarda le origini di alcuni personaggi di cui abbiamo parlato le radici occulte del nazismo di Goodrich Clark che è un testo in realtà insomma molto famoso questa è un'edizione sugarco ma ce ne sono altre vabbè la dea bianca l'abbiamo citata ma insomma fondamentale è il matriarcato di Bakofen che esiste in un'edizione in Audi di due volumi molto grossa però interessante perché questo è stato un testo veramente influente e per finire lasciando perdere Esalen Eranos questo è un testo tedesco qui ho trovato anche una traduzione inglese di Huckle interessante perché spiega un po' cosa sono state le conferenze di Eranos come guida a questi fenomeni io consiglio sempre un testo che secondo me è un capolavoro che è Libido Dominandi di Jones un libro che non ha molto corso perché dice forse troppe verità non solo sul monte ma è un libro straordinario è un libro tra l'altro sono dei libri di questo enorme ma c'è dentro tanto bene alla prossima allora al prossimo incontro al prossimo argomento benissimo grazie e a presto grazie a te e grazie di tutto se ti è piaciuto questo video sono molto contenta e spero che ne troverai altri nelle tante playlist che abbiamo creato che potrai guardare e apprezzare magari consigliandoli ai tuoi amici magari pubblicandoli sui social grazie per la visione e arrivederci al prossimo video ciao ciao